Abbiamo avuto l'esempio di nostra madre che comunque ci ha cresciuto da sole e quindi una donna lavoratrice che comunque si è sempre fatta in quattro perché comunque lei ci ha cresciuto da sole, lei ha avuto la forza di portare avanti una gravidanza da sola, di lavorare, di sostenere diciamo la famiglia, di aver fatto milioni di lavori. Noi con nostra mamma abbiamo un rapporto molto amichevole, è come uno scambio di ruoli, è una convivenza di tre donne diciamo così, quindi noi siamo mamma, figlia, sorella e amica. Lei non è amante, in realtà però il suo primo tatuaggio è stato anche il mio primo, quindi lei è legatissima a noi e quindi le accetta, anzi è felice per noi e ci sprona sempre, ci accompagna sempre e comunque è una figura veramente diciamo importante. Ovviamente quando c'è magari da rimproverare o da dare un consiglio o magari un giudizio negativo c'è però alla fine è un rapporto molto in amicizia, molto forte e lei è felice della scelta che abbiamo fatto e ci sprona sempre. Diciamo che all'inizio quando vedeva i primi tatuaggi nostri che ci facevamo ovviamente diceva è bello, è un po' grande perché ormai non ci dice più niente, cioè arriva mamma ci siamo fatte questo tatuaggio e ti guarda vabbè però non vi riempite diciamo quindi detto in maniera amiche. In maniera rassegnata più che altro.